Possiamo sicuramente mettere in pista le risorse per cercare di arrivare a coprire a questo punto il 100% della domanda di trasporto e quindi garantire il trasporto per tutte le destinazioni delle scuole presenti nel nostro territorio provinciale. Una capienza dell'80% sui mezzi locali, cosa significa? Quanti posti restano scoperti? Mediamente sugli autobus, quelli che normalmente si vedono circolare per le nostre strade, stiamo parlando di quelli normali, non degli autosnodati eccetera, hanno una capacità di trasporto intorno ai 90 passeggeri, l'80% siamo intorno ai 70 passeggeri, quindi vuol dire mediamente dove sono tutti i posti a sedere completi più una decina di 10-12 posti di persone in piedi là nei tragitti autorizzati naturalmente. Nella maggior parte dei nostri autobus non si potranno utilizzare una parte dei posti in piedi. Si pensa ancora alla fusione con le imprese private per quanto riguarda il trasporto? Noi non scartiamo nessuna soluzione, naturalmente la nostra società è già composta da soggetti pubblici e privati che hanno una capacità inespressa di trasporto perché hanno dei mezzi di noleggio, hanno altri mezzi, quindi prima valuteremo le risorse che tutte le società del gruppo Adribus hanno in disponibilità. Naturalmente se c'è una necessità non avremo nessun tipo di problema da rivolgersi anche alle società esterne. Per quanto riguarda le tratte ci saranno delle modifiche anche ovviamente comprese quelle scolastiche? No, 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 assolutamente. Ripartiamo con un servizio molto molto simile a quello dell'anno scorso e naturalmente ricalibreremo la capacità aggiungendo ulteriori mezzi laddove abbiamo la percezione che possono essere leggermente insufficienti a causa di questa limitazione del 20%. Ricordiamo anche il numero di studenti che utilizza i servizi di Adribus per raggiungere gli istituti scolastici? Siamo abbondantemente sopra le 10.000 unità, quindi è un numero consistente. Trasportare 10.000 persone contemporaneamente in provincia, insomma, non è... poi naturalmente dobbiamo aggiungere anche l'utenza, quella classica, normali, lavoratori, quindi è uno sforzo importante ma non ci spaventa. In chiusura parliamo anche, sempre per quanto riguarda la scuola, degli abbonamenti che devono essere rimborsati agli studenti. A che punto siamo anche su questo fronte? Allora, c'è da domani, i primi 2.500-3.000 adesso, ricordo di preciso, saranno già pronti per essere, diciamo così, al momento del rinnovo o all'acquisto di un nuovo abbonamento, già possibile fare la decurtazione del voucher corrispondente. Gli altri sono in fase di lavorazione perché abbiamo ricevuto oltre 7.500 richieste di emissione del voucher e praticamente è stato necessario controllarle uno ad una e non tutte le pratiche erano naturalmente corrette, quindi abbiamo richiesto delle integrazioni.